Vediamo adesso come impostare sia le tabulazioni che l'indentatura del nostro documento di testo Il righello orizzontale mostra sia le tabulazioni standard sia quelle definite dall'utente Per impostare le unità di misura e la spaziatura delle tabulazioni predefinite andiamo in strumenti, opzioni, openoffice.org writer, generale Vediamo qui che possiamo impostare sia l'unità di misura, abbiamo il centimetro, millimetro e altre unità di misura Sia l'intervallo della nostra tabulazione In questo caso è impostato in 4 cm E vediamo che noi premendo il tasto tab della nostra tastiera ci spostiamo di 4 cm alla volta Se volessimo modificarlo in 1 cm alla volta Vediamo che adesso ci spostiamo di 1 cm alla volta L'unità di misura del nostro righello orizzontale può essere cambiata anche attraverso il righello orizzontale Quindi posizionandoci sopra e premendo il tasto destro del mouse Possiamo trasformarlo in altre unità di misura Pollice, millimetro, ecc. Se clicchiamo due volte Con il tasto sinistro del mouse Sullo righello orizzontale Vediamo che esce fuori la finestra paragrafo Direttamente nella sezione tabulazione E qui possiamo decidere di creare Una nuova tabulazione di 2 cm Sinistra Ok In questo caso ci spostiamo Vedete il cursore del mouse si sposta a sinistra Da sinistra di 2 cm Se vogliamo spostarlo invece di 4 cm Ripetiamo l'operazione impostando a 4 cm E in questo caso vedete il cursore si è posizionato a 4 cm Alla sinistra della margina Grazie a tutti Grazie a tutti